Ciao ragazzi, io sono Antonio e oggi unboxeremo assieme due pacchi che mi sono arrivati da EMP ma prima di cominciare questo unboxing a tema animali fantastici vi informo che alla fine del video ci sarà un fantastico giveaway a tema animali fantastici offerto da EMP e poi ragazzi vi ricordo che in infobox trovate sempre dei codici sconto da utilizzare su EMP quindi adesso bando alle ciance e cominciamo subito a scoprire cosa è arrivato questa settimana ragazzi tantissime cose come vi dicevo a tema animali fantastici e ovviamente non possono mancare i Funko Pop ragazzi ebbene si è uscita la nuova wave di Funko Pop dedicati ai crimini di Grindelwald e quindi non potevo non prendere questi Pop che adesso andremo a vedere e a commentare assieme ok e abbiamo i nostri primi due Funko Pop che mettiamo qui da parte all'interno come al solito buoni sconto, volantini, riepilogo dell'ordine, il reso e tutto il necessario per ogni eventualità e cominciamo ad aprire questo che è il Funko Pop di Grindelwald voi vi starete chiedendo perché hai preso il Funko Pop di Grindelwald se hai già quello del New York Comic Con dell'anno scorso che vale anche parecchi soldi ragazzi la risposta è molto semplice e adesso ve la farò vedere ed eccolo qui ragazzi in tutta la sua bellezza inizialmente era passato un po' in sordina, non volevo prenderlo perché mi sono detto ma che lo prendo a fare, è sempre lo stesso Pop, hanno cambiato solamente il corpo bene, questa cosa poi mi ha fatto riflettere perché effettivamente era proprio la cosa che mi faceva storcere il naso fin dall'inizio per quanto riguarda il Pop di Grindelwald del New York Comic Con perché come vi ho detto in passato hanno semplicemente riciclato lo stesso identico corpo di Graves non c'è alcuna differenza, hanno staccato la testa di Graves ed hanno messo la testa di Grindelwald quindi mi sono detto perché non cambiare adesso il Pop vecchio di Grindelwald con quello nuovo dato che adesso qui hanno utilizzato il corpo con i vestiti adatti al personaggio quindi mi sono detto ok è ora di cambiarlo e effettivamente la testa è praticamente uguale l'unica differenza sta nell'occhio bianco che nella nuova versione è appunto bianco mentre in quella del New York Comic Con ha questo colore che è abbastanza vicino a un lavanda a una cosa del genere, una sorta di glicine, non ho idea ragazzi di quale sia il colore esatto ditemelo voi come si chiama questo colore ma comunque è differente da quello nuovo e questo in ogni caso mi ha spinto a prenderlo perché alla fine la testa è esattamente quella non è cambiato nulla se non il colore dell'occhio ed è migliorato il Pop precedente grazie al nuovo abito quindi sostituirò questo Pop con questo che terrò comunque ma lo metterò da parte dentro una scatola nel suo bel protector ma andiamo avanti con il nostro unboxing perché c'è ancora davvero tanta tanta roba da mostrarvi perché qui abbiamo un nuovissimo personaggio che poi tanto nuovo non è però è una versione diversa diciamo così eccolo qua, si tratta del giovane Albus Silente questo andava assolutamente preso io possiedo la versione di Silente, la versione 2.0 non ho mai preso la versione 1.0 di Silente perché come sapete non mi piace prendere personaggi doppi o diverse versioni dello stesso personaggio ma in questo caso si tratta del giovane Albus Silente e quindi andava assolutamente preso mi piace tantissimo la posizione che hanno dato al Pop con questa mano un po' spavalda e infilata in tasca davvero molto bella e mi piace anche la bacchetta che hanno utilizzato che è quella che vedremo nel film perché nel primo poster di Animali Fantastici quello con tutto il cast Silente aveva una bacchetta diversa rispetto a quella di Sambuco ma che la ricordava particolarmente e è stata poi sostituita invece in corso d'opera nel film e hanno utilizzato la seconda bacchetta anche nel Pop che comunque resta bellissimo mi piace un sacco mi piace questo suo vestito molto casual mi ricorda un po' il nostro Remus Lupin nella posa e anche nei colori però davvero bello ottimo lavoro Funko ma abbiamo altre cose da unboxare ed eccolo qua andiamo subito ad unboxarlo perché aspetto davvero da tantissimo da troppo tempo ragazzi circa due settimane stavo per impazzire quindi apriamo finalmente questa benedetta scatola e tiriamo fuori gli altri miei acquisti ecco qui uno, due e tre perfetto ho trovato anche due buoni sconto da 6,66 euro su una spesa minima di 49,99 in occasione di Halloween questi qui li utilizzerò sicuramente poi abbiamo tutti i soliti moduli ed ecco qui che abbiamo gli altri due pop che ho ordinato come al solito tutto arrivato in ottime condizioni da EMP non ho mai avuto problemi tutto imballato singolarmente ed ecco qui anzi cominciamo da questo che è un pop molto speciale perché su EMP è arrivato in esclusiva europea il Funko Pop del Chupacabra che in America è uscito per Hot Topic cosa cambia rispetto alla versione regular? cambia semplicemente che questo qui ha le fauci spalancate aperte mentre la versione regular che troviamo qui sul retro della scatola che è il numero 18 della serie di i crimini di Grindelwald ha invece le fauci serrate chiuse a me piaceva l'idea di averli tutti piacciono un sacco i pop degli animali delle creature fantastiche di Harry Potter quindi non potevo lasciarlo lì e ancora dovrebbe essere disponibile sul sito è arrivato addirittura bollinato Hot Topic che lo fa aumentare di valore quindi assolutamente un pop da prendere non vedo l'ora di vedere questa creatura all'interno del film anche perché non si è mai vista neanche all'interno dei trailer e non ho ben capito le sue dimensioni sarà grande quanto un cavallo o sarà grande poco più di uno snaso non ne ho assolutamente idea e non vedo l'ora di vederlo mi piace un sacco l'idea che abbiano aggiunto all'interno dei film anche queste creature che tra virgolette sono mitologiche anche nel nostro mondo come ad esempio il chupacabra e credo ci sarà anche il mostro di Loch Ness questa cosa l'ho un po' intuita ultimamente e magari chissà nei prossimi film potremmo vedere uno Yeti o altre creature che la Rodin sfrutterà all'interno del mondo di animali fantastici assolutamente consigliato ragazzi non fatevelo scappare e poi ho anche recuperato invece un pop della nuova Wave di Harry Potter quella lì dedicata alla Camera dei Segreti volevo inizialmente prendere la versione esclusiva di questo pop quella color sepia ma alla fine ho ripiegato per quella normale quella regular che costa anche molto meno e che poi effettivamente mi piace di più perché questi pop in colorazione sepia non è che mi facciano proprio impazzire come ad esempio il Sirius Black che si può trovare in versione Chase nella box di GameStop sì carino ma secondo me il regular è molto molto meglio poi fatemi sapere sotto nei commenti voi invece cosa ne pensate di queste varianti di colore come è successo anche per Gilderoy Alloc che troviamo nella sua versione regular con gli abiti marroni mentre nella versione Barnes & Noble con gli abiti azzurri sì molto carino ma alla fine uno vale l'altro secondo me ed ecco qui anche il nostro bel Tom Riddle che ragazzi altra piccola chicchetta questo Tom Riddle ha i colori naturalmente di Serpe Verde nella divisa che nella versione Sepia invece non si distinguono ed ha anche la spilletta da caposcuola quindi assolutamente consigliata per me la versione a colori secondo me Funko ormai sta leggermente superando i limiti perché non fa altro che ricolorare in mille modi diversi Funko Pop già usciti in Wave precedenti o anche nella stessa Wave e propinarli come esclusive come glitter come qualsiasi altra cosa pur di spillare soldi su soldi ragazzi prendiamo il regular della stessa versione e spendiamo meno siamo contenti lo stesso e spesso e volentieri esclusiva non vuol dire più bello del regular questo è un mio pensiero anche in questo caso sotto con i commenti ebbene ragazzi adesso però passiamo a quello che state aspettando cioè il nostro giveaway in collaborazione con altri due canali il giveaway è in collaborazione col canale di Martina Martinao e con Silvia del canale SissiTube loro sono delle grandissime fan di Harry Potter di Animali Fantastici anche loro parlano di libri di lettura di unboxing sono due ragazze abbastanza nerd e quindi ragazzi mi raccomando seguitele anche perché per partecipare a questo giveaway è necessario essere iscritto a tutti e tre i nostri canali il mio quello di Martina e quello di Silvia e poi commentare sotto i nostri video in tutti e tre i video con quale Funko Pop di Harry Potter o Animali Fantastici vorreste essere premiati perché ebbene sì uno di voi verrà scelto su Instagram da Martina il 6 di novembre riceverà il Pop desiderato quindi EMP mette in palio un Funko Pop regular di Animali Fantastici o di Harry Potter a vostra scelta quindi mi raccomando ragazzi semplicissimo iscrizione a tutti e tre i nostri canali li trovate sotto in info box seguiteci su Instagram naturalmente tutti e tre per sapere poi chi sarà il fortunato vincitore il 6 di novembre io naturalmente poi lo riporterò anche nella sezione community di YouTube lo metterò sul mio Instagram ma verrà annunciato sul canale Instagram di Martina quindi mi raccomando trovate tutto sotto in info box 6 novembre il vincitore un fortunato si porterà a casa un Funko Pop scelta offerto da EMP che ringraziamo sempre tantissimo per la sua collaborazione ebbene ragazzi con questo credo sia davvero tutto spero che questo piccolo video vi abbia fatto contenti vi abbia tenuto compagnia e naturalmente non posso che augurare in bocca al lupo a tutti voi ragazzi per qualsiasi domanda sapete dove trovarmi sotto nei commenti e in tutti gli altri social ebbene io adesso chiudo e becco e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità ciao ciao